YOLANDA SWITZ Quindi Puppet vs Real Food Allora in cosa consiste ho visto questa challenge già fatta da americani, russi Dobbiamo bendare, dobbiamo mettere il Puppet da una parte e il cibo dall'altra Mettere il piatto davanti all'avversario e lui decide se scambiare o tenere il piatto Chi prende il Puppet vince, non il cibo ma il Puppet Ma se uno becca il cibo se lo mangia, se vuole Se vuole si, chi becca più cibo paga penitenza perché ovviamente la sfida è sui Puppet, non è sul cibo Direi di fare tre semplici cose Allora, i video dovete iscrivervi al canale, mi raccomando così vedrete tutti i miei video di Puppet, tutti i miei video di slime E andate ovviamente a visitare il mio sito perché venerdì ci sarà il nuovo rifornimento di slime E Puppet, perché ci saranno anche i Puppet sul mio sito ovviamente Il gioco di oggi è, indovina la parola Ed è uno di questi cibi 3, 2, 1 Ok dai Le mangiare adesso tante le mangiare E' facile, è facile Allora, a turno, vediamo chi inizia Come sempre Facendo il tocco E dove usiamo l'allenina e la bendina Alienina e la bendina Allora facciamo il tocco e vediamo chi inizia Abbracci Ciccocò e Daniele puzza un po' Anzi Ciccocò e Daniele puzza un po' Inizio io, quindi Mi bendo io? Sai dai, bendati tu, bendati tu E io ovviamente dovrò scegliere tra questi Puppet e tra il cibo vero cosa andarti a mettere sotto Ragazzi ora date il vostro pronostico Secondo voi chi è che vincerà? Prima cosa che voglio mettere nel piatto è questa Che poi Daniele ovviamente non lo sa cosa io gli vado a mettere dentro al piatto Potrei sempre fare così No! Ragazzi iniziamo che vuole imbrogliare Non iniziamo Ora ti puoi sbendare E vabbè Se se ne accorge se ne accorge ovviamente cosa io metto Posso? Poi allora ora cosa fai? Lo tieni o lo scambi? Io lo tengo Lo tieni? Mh Sei sicuro? Sì Al mio 3 dobbiamo alzare la cloche La cloche La cloche Che poi sono praticamente così dove faccio lo slime però i dettagli Cloche 3 2 1 Popo Non va Non va Popi 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 Iniziamo proprio bene Vai Ragazzi io veramente non ho pa... Non preferisci parole Non fai... Non vuoi far capire cosa ci sia? No non si deve capire niente Successo No niente vai Perché questa cosa? Perché? E poi fai spiegherò vai Vai se tu balza Vai se tu balza vai Sbendati Lo tieni o lo scambi Scambio Scambi? Sì Sicura? Sì Vai Cosa c'ha in mano? No non vedo che una carota perché è troppo grande non c'entrava La posso posare Ragazzi ho paura Vai 3 2 1 Sì Wow E poi Ma me la mangio perché... E poi E poi ragazzi No Yuki Yuki è venuto perché ho sentito fare... WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII vai sbendati mi sbendo allora allora hai usato Daniele non sa cosa io abbia usato e forse è meglio così ragazzi secondo me è il momento di scambiarlo dici va bene ho sbagliato no ho sbagliato perché è pesante è divertente questa cella carina ragazzi altri challenge mi raccomando suggeriteci le giù nei commenti così che noi ne andiamo a fare ovviamente altre mi raccomando le più creative e divertenti ovviamente le andremo a salutare nel prossimo video saluto nel prossimo video posso spenderti però mi metto gli occhiali perché io senza non ci vedo hai preso la pera guai che vista mio bene non c'ho la memoria allora io direi che tu hai scambiato prima e anche io voglio scambiare un'altra ne sei certa grazie aereo ciao 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 sì sono certo sicura mille per mille visto che dici così si voglio scambiare scambiare scambia 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 3 3, 2, 1 No Allora metti le mani a posto Perché altrimenti non posso fare assolutamente Nada di nada Questa volta ho deciso di Scambiarlo 3, 2 1 Si poppi poppi Ti aspetto Com'è questa fragola E' buona Non mi aspetto E' buona perché io sono convinta Ma sono convintissima Sono convintissima che sotto al mio piatto Ci sia il pop it Quindi io me lo tengo Sicura? Si tengo Mi sento che me lo devo tenere Ti sentirei proprio male Secondo me Addirittura E se ci sia questo Ti ne mangio un altro di fragola Ma qual'è il problema? Prontà? 3, 2, 1 E me lo mangio Che puntà Ce lo aggiungiamo veramente alla grande Addirittura? Eh si perché manca veramente molto poco Chissà c'è un casino Un bordello Devo concentrare Ragazzi Concentrazione Pi careful Cosa hai preso? Mamma mia ragazzi Ma veramente? Io non ho parole Hai preso le patatine Eh beh certo che si amore mio Che però ne hai messo all'interno Ne hai messe poche Secondo me E' il momento Di tenere La mia cloche Vabbè 3, 2, 1 No No Ole 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 Ma si può dire che se vinco questa Vinco E' vinto Poi si Vinco io adesso Se perdo possiamo fare la bella e la bestia Aiuto aspetta Rumori di piatti ragazzi Ma che cavolo ti sta succedendo? Ma che stai combinando? Vai Posso? Si si Ok Il limone Limone Tu cosa hai fatto prima? Me lo tengo pure io Te lo tieni? Me lo tengo si si Sicura? Si me lo tengo E G Non so che mi piace Ti posso fatto Si si Non lo so E' bellino questa cosa Andiamo? Vai 3, 2 1 Ma no Ma me non c'è niente E' perché non c'è il trame Sul limone di 10 kg Si li vedi? Oddio mi è fregata Lo giuro Mi è fregata Madonna ragazzi Sì Voi dite un limone rosa Sì perché in realtà c'ha la forma del limone Però è rosa Vabbè Siamo anche l'ultimo Brava Perché se io vinco Vinco tutto Se no vinci tu No Non funziona così No Non funziona così Allora Quindi tu Sì ti devi benda tu Mi bendo io Quindi vado io Ragazzi c'è il gelatino La mia fragolina me lo aveva mangiato E c'è ovviamente il gelato Quindi adesso vediamo un pochettino Chi Beccherà Il gelato E chi beccherà ovviamente Il pop it Devi fare 3.000 suoni Ok vai Devo sbendare Ok posso Mi sbendo Simple thing Ragazzi questa volta Secondo me è giunto il momento Di fare cosa Di lasciare il gelato a Svizz Mi lasci No per andare in bagno Ok Allora Momento concentrazione Momento serietà Ragazzi bisogna essere seri Vediamo un pochettino Scambio Sei sicuro Fatto io Tu potresti imbrogliarmi Comunque Eh potete i progetti Non lo so Tu potete Così Progettale cinesi 3 2 1 No Fino all'ultimo Ho perso Fino all'ultimo Sono dei glitter Fino all'ultimo Raga Quindi io ho collezionato Praticamente 2 4 6 Pop it Tu quanti ne hai collezionati Sono aspre queste fragole Ragazzi comunque Quest'anguria Le fragole non le comprate Non è più periodo Sono aspre Poi erano buone Allora umiliati davanti a tutti Cantando una canzone lirica Vincerò Vabbè Scusa Prossima sfida Io vincerò Bravissimo Va bene Se vi piacciono queste sfide Mi raccomando Pollice in su Tanti pollici ragazzi Pollicina raffica Se ne volete altre Mi raccomando Noi vogliamo tanto bene Vi mandiamo un bacione Un abbraccio fortissimo Esattamente E noi come sempre Ci vediamo domani Alle ore 14 e 30 Bye